La scuola di Balestrate Trappeto celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Le classi dell'Istituto Comprensivo Rettore Evola si sono ritrovate nella piazza di Balestrate per sensibilizzare società e istituzioni su questa condizione, che comporta difficoltà di comunicazione e di relazione. Un corteo colorato d'azzurro con centinaia di palloncini blu e cartelloni, a cui hanno partecipato famiglie, studenti e docenti, si è mosso dal belvedere alla piazza. Qui è intervenuta la dirigente scolastica, Anna Bica, alla presenza dei sindaci di Balestrate e Trappeto e i bambini hanno intonato canti e poesie. In Italia si stima che un bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico. Le tecniche più moderne per offrire una corretta terapia comportamentale si trovano pochissimo nel settore pubblico. e bisogna quasi sempre ricorrere a quello privato. Anche nella formazione scolastica delle insegnanti mancano i principi fondamentali di queste terapie e ogni docente si trova a dover approfondire le conoscenze con una propria formazione, grazie spesso alle informazioni fornite dalla stessa famiglia. Le associazioni del settore ricordano quanto sia importante che le istituzioni tengano alta l'attenzione su questo tema. Bisogna garantire continuità nelle figure di riferimento e consentire che assistenti e operatori di sostegno siano presenti sin dal primo giorno di scuola. Bisogna inoltre assicurare l'erogazione puntuale dei contributi e dei rimborsi previsti dalla legge. Gli alunni hanno ricordato la necessità di fare grande attenzione a questa tematica, recitando delle poesie e intonando dei canti. La giornata della consapevolezza si celebra il 2 di aprile, ma ricadendo di sabato l'Istituto Comprensivo ha fortemente voluto celebrarla ieri. Il primo giorno è tutto io, tutto mio, lì ci voglio soltanto io, ci sarebbe però le due ore e lì non c'è nessun rumore, il silenzio è mia amica, questo è quello che vi dico, si prega e si non disturba, non si bisogna mai bussare, forza parla piano piano, dai termini la mano, si si entra una alla volta, non c'è fila che si ingorga, non si grida, non si urla, non è mica una burla, non sei dal fin di mondo, sei di blu il mio mondo. Bravissimo, bravissimo. Muamed Amin. Da dove vieni? Dalla Tunisia. Cosa ne pensi di questa giornata? Penso che sia giusto per questa giornata che sta accadendo, perché ci sono di questi bambini che hanno l'autismo e che hanno un mondo tutto per sé, ecco. La mamma è piccola e si sto soltanto io, non parlo di confondo con strano chiacchierio, fratelli e gesti strani con il corpo e con le mani, è fisso su qualcosa dal sguardo mio si imposa, ti sembra senza senso, ti chiedi cosa penso, ti sembri senza senso, sono alti forti mura, sono alti forti mura, sono alti forti mura, costruiti intorno a me, faccio paura, ma non sono come te, non del mio, tu non sei sempre, ti credico io e tu non sai capire, se solo vuoi provare, se prendi la strada, e non posso capire, posso anche capire, perché non mi pianto, gioco, 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 gioco. Credo di essere mai, credo di essere mai, e ancora, guarda chi è mai. Grazie a tutti.